Può il Samsung Galaxy S8 essere ancora un dispositivo valido da utilizzare nel 2024? Scopriamolo! E ho lato lo sbelli e bentornati nel Paschics, oggi siamo qui tornati con un nuovissimo video. Oggi parleremo di telefoni, nello specifico appunto di questo Samsung Galaxy S8. L'ho ritirato fuori dal cassetto per vedere se fosse ancora utilizzabile in questo 2024 e i risultati sono ben più che incredibili. Analizziamo Samsung Galaxy S8 nel 2024 attraverso 6 categorie. Design, display, software, performance, fotocamera e batteria. Partendo dalla prima, il design, impossibile non notare a prima vista, il meraviglioso schermo curvo che è dotato di protezione Gorilla Glass 5 per resistere a cadute graffi e certificazione IP68 contro acqua e polvere. Parliamo di un telefono leggero e sottile con 155 grammi di peso e solo 8 mm di spessore. L'S8 è dotato di un display da 5,8 pollici in diagonale, risoluzione fino al 2K. Ha un refresh rate a 60 Hz e una luminosità massima di circa 650 nits. Questo è un display che con tanta luce del sole farete un po' più fatica a vedere rispetto agli ultimi top di gamma, ad esempio. Tutto alla grande finora, ma la prossima categoria non sorride per niente al nostro Galaxy S8. Parliamo dell'aspetto software. Su questo telefono troviamo la prima versione di One UI con Android 9 come sistema operativo. E l'ultima patch di sicurezza risale addirittura al 1 aprile 2021. Purtroppo questo è un dispositivo non più sopportato da Samsung sul lato software. Passando al lato performance, il Samsung Galaxy S8 monta uno Snapdragon 8895 accompagnato da 4 GB di RAM di tipo LP DDR4X e 64 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.1. Quindi sono memorie tutto al più veloci anche secondo gli standard di oggi. Ma adesso proviamo un piccolo test di fluidità. Sblocco con l'impronta digitale. Andiamo su Instagram. Scrolliamo un po'. Sempre fluido. Entriamo nei reel. Scrolliamo ancora un pochino. Usciamo velocemente da Instagram. Andiamo, che ne so, su Spotify. Facciamo partire l'ultima canzone che c'avevo. Ok, perfetto. Poi, che ne so, andiamo sulle chiamate se vogliamo telefonare a qualcuno. Scorriamo per le impostazioni, andiamo sul display, aggiustiamo la luminosità, molto veloce. Poi, che ne so, andiamo su YouTube, apriamo il primo video a caso che ci capita. Guardiamoci, che ne so, atti Nichols. Poi si esce, veloce, poi che ne so, entriamo su Clash of Clans. Sempre fluido. Nessun segno di rallentamenti, diciamo, negli anni. Poi, che ne so, andiamo su Chrome, vogliamo fare una ricerca casuale. Samsung Galaxy S8, abbiamo cercato, perfetto. Scorre, perfetto. Diciamo che, come potete vedere, nonostante l'età, se la cava comunque egregiamente. Un telefono che, sinceramente, potrei usare ancora oggi. Ma adesso, passiamo alla categoria forse più importante per uno smartphone ai giorni d'oggi. La fotocamera. Il Samsung Galaxy S8 è dotato di un sensore posteriore da 12 megapixel che può registrare fino al 4K a 30fps e un sensore frontale da 8 megapixel che può registrare fino al 2K a 30fps. Ma questi sono solo numeri, vediamo adesso però come si comporta realmente. Questi sono video in 2K con la fotocamera frontale. Potete vedere com'è la stabilizzazione, comunque come sono i microfoni. Questo test sempre con la fotocamera anteriore, però stando un po' fermi. Questi invece sono video in 4K con la fotocamera posteriore. Insomma, reggio il confronto con gli smartphone odierni solo con le foto con il sensore posteriore con tanta luce. I selfie invece sembrano sempre poco equilibrati e carenti di dettaglio. Valgono le stesse cose per i video, diciamo, sia per la frontale sia per la posteriore. Adesso invece ci concentriamo sull'ultimo aspetto che tratterò in questo video, la batteria. Il Samsung Galaxy S8 monta una batteria da 3000 mAh che ad oggi si è degradata fino a raggiungere una capacità massima di circa l'80% di quelli originali 3000 mAh. Questo secondo i miei test tramite l'app di AcuBattery. L'S8 però supporta comunque la ricarica rapida e la ricarica wireless. Questo era un telefono che quando è uscito riusciva ad arrivare a fine giornata senza nessun problema. Ma sarà ancora così? Ti consiglio di iscriverti perché a breve farò un video a riguardo. È arrivato il momento di tirare le somme. Il Samsung Galaxy S8 è un telefono uscito nel lontano 2017 ma che ancora oggi può risultare un'opzione valida per chi vuole spendere poco. Ad esempio lo possiamo trovare su siti come eBay o Wallapop o subito a circa 80€. E sinceramente per quel prezzo vale la pena preferirlo a telefoni nuovi sulla stessa fascia di prezzo. Quindi se già ce l'avete il mio consiglio è fate come ho fatto io, resettatelo da capo, metteteci solo le app essenziali, cambiategli la batteria e sarà come utilizzare un medio di gamma di tutto rispetto nel 2024. Se invece non ce l'avete è un telefono che consiglio a chi magari mastica meno tecnologia diciamo. Che ne so, a un parente che non ce ne capisce troppo e al quale si vuole fare un regalo per non spendere troppo. Gli si prende uno di questi e sinceramente non penso che avrà nessun tipo di problema nell'utilizzo generale. Come sempre vi invito a lasciare like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, like, campanellina del Pacix è tutto, bella!